Salve salviette e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Carly e finalmente adesso lo posso dire Cimbia e cheddar Ho appena finito di leggermi una lunga lista di vostri commenti dove mi date consigli E mi avete corretto un paio di cosucce che ho sbagliato nell'ultimo video Grazie perché non avevo assolutamente capito nulla La volta scorsa abbiamo shoppato insieme questo brawler mitico Non è una skin è un brawler, ora lo ricordo E ho ricevuto una skin per questo brawler Infatti vedete adesso sono, perché ve l'ho fatto vedere? Adesso sono una fragolina Per Lily mi avete consigliato di mettere il primo gadget Ossia questo, il trasmigratore Non so bene come si usi ma oggi impareremo E tra l'altro siccome ho appena riscattato tante monete Possiamo permetterci questo acquisto importante E altra cosa Oggi voglio shoppare tanto Devo comprare ancora il brawl pass di questa stagione Quindi andiamo E anche questo è stato acquistato Voilà Ok così finalmente non devo per forza shoppare le monete Nuova reazione che io in realtà le reazioni non le uso praticamente mai Limite dei bling raggiunto Spendi i bling che hai per sbloccare skin E reazioni graffiti E icone del profilo Prima di accumularne altri Effettivamente io non spendo mai i bling Va bene adesso Trovo qualcosa da shoppare Non vi preoccupate Dammi qualcosa di interessante per favore Mille monete Perfetto Ragazzi è fatta È fatta È fatta Sono ricchissima Leggendario Ti prego Nuova skin Di Nita Bellissima Orsetto gommoso Ma è carinissima Questa mi piace Fermi Fermi Porca miseria Va bene ci accontentiamo lo stesso Del leggendario Nuova skin In realtà questa non la uso praticamente mai Beh adesso sicuramente posso livellare al massimo Lily Qua cosa prendo Spike direi Spike è carino Lo vedo spesso Le cose più importanti le abbiamo già riscattate Non c'è altro Direi che a questo punto possiamo già portarla al livello massimo Migliora 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 Ok Oh altre monete Meno male ok Perché non ne ho abbastanza Per prendere l'abilità stellare Però non me ne mancano tante Ecco ce l'abbiamo ok Adesso ho le monete giuste giuste Per comprarmela Comunque sarei per prendere La maffilata Spero di non fare una stupidaggine E spero che sia un acquisto giusto Uh che bella È bellissima la nuova skin Siccome devo spendere per forza dei bling Vorrei comprarmi questo Dai guardate che bello E c'è Darone È bellissimo Vai Oh c'è questa È molto bella Vai Tanto ne ho troppi di bling Devo per forza spenderli Quindi perché no Ok detto ciò Non ci resta che fare un po' di partite Guadagnare le uova Perché ne voglio aprire tante Sono anch'io una nutellina Dopotutto Quindi perché no E proviamo subito La nuova abilità stellare Anche il gadget che ho comprato In realtà non ho ben capito Come si utilizza Però adesso lo scopro Allora prendete voi Il Godzilla Perché abbiamo scoperto Dal video della volta scorsa Che non sono troppo capace Ad usarlo Vediamo come si utilizza Uh bello Diventa invisibile Bellissimo Aspetta Quindi io posso arrivare qua Ok peccato che però Non si vedano i nemici Quindi Vabbè Se uno impara ad usarlo Secondo me può essere Una cosa molto p Questa Tipo se io adesso Volessi diventare invisibile E volessi andare qui Aia Aia Ok sono morta Ho capito come si utilizza Beh è bello Effettivamente Valsi i suoi soldi Dai Ora ci provo Ora ci provo Questa volta sarò più brava Devo buttare giù Manhattan Dai Dai Ok Qualcosa ho fatto Però mi avete detto Di attaccare più a distanza Ma questo in realtà Ha l'attacco molto vicino Perciò non posso fare Altrimenti In questo caso Dai che ti aiuto A buttare giù Godzilla Solo che Ho fatto un po' Una stupidaggine Perché ho usato Tutti I miei gadget In poco tempo Non è stata una furbata Però vabbè Volevo provarli Volevo testarli Ci sta Nella prossima partita Sarò più parsimoniosa Scontro fra Godzilla Dai che muore Dai che muore Ottimo No dai 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 Ti prego Ti prego Fammi tornare Fammi tornare Ti prego Scatta il timer Mamma mia Abbiamo vinto Di pochissimo Di solo il 4% Più cure prestate Dammi qualcosa di buono Ti prego Dammi i soldini I soldini Grazie Vedete basta chiedere E le cose arrivano sempre C'è anche una sfida Torneo Dai proviamo a farne una Così tanto per Finché ci siamo Perché no Perché ora che Ho scoperto Come si utilizzano I gadget Forse qua potrebbe Starci eh Il fatto di diventare Invisibili Potrebbe funzionare Dammi la palla Ah ok No non puoi diventare Invisibile In questo momento Porca miseria Porca miseria Aia Oh ma chi è questo Che si è buttato così No Lancia Ottimo Ottimo Mamma mia Sto tryardando Un sacco Non sto Non sto riuscendo A connettere Una frase Non sto parlando Sono troppo Concentrata E probabilmente Sono pure Strabica Perché ogni volta Dammi la palla Nessun problema Nessun problema No No Fa gol Fa gol Porca miseria Ed ecco perché ragazzi Non dovete mai fare i tornei Ho fatto anche poche eliminazioni Ho fatto schifo in questa E che accade Scusa se faccio quattro sconfitte Visto che mi ha già messo un bollino Con una X sopra Ok torniamo nella modalità Godzilla Perché voglio aprire le uova Dai dai che è già quasi morto Dai che è già quasi morto Ho uno sputo di vita Non si ricarica molto facilmente Non so se ne ha la mia impressione Ma Non mi buttare il vino Non si butta il vino Che bella kill che ho fatto Che è questo barile che è rimasto qua? Serve a qualcosa? No Non volevo diventare invisibile Ho sbagliato Ho sbagliato Dai 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 che è morto Dai che è morto Ottimo E sono morta anch'io Ah è un teletrasporto Ma cosa? No ragazzi Io come i boomer Quando scopro le cose Sono appena andato sopra il teletrasporto Non avevo capito No sto per morire Eccola Eccola Porca miseria Stiamo vincendo eh Però anche loro non se la stanno cavando proprio male Dai dai Ormai è finita Ormai è finita È vinta È vinta È vinta Easy Easy Faccio sempre 9 kill Ma è 10 Solo 9 9 9 9 Ok siamo in winstreet Quindi è importante vincere anche la prossima Oh abbiamo già l'apertura delle uova Super raro Sapete che sarei per shoppare delle uova? Lo so che in realtà le puoi guadagnare vincendo easy Però siccome ho abbastanza gemme perché no? Giusto per il gusto di aprirle in questo momento Vai Bling Ti prego Dimmi che ho speso 80 gemme per una buona causa Lo so che adesso voi penserete Ma è stupida Poteva giocarsene Però vabbè le ho appena guadagnate Mutazione di melodi Ti prego dammi qualcosa Dammi qualcosa Ok basta Non c'era nient'altro Che è sta canzone che è venuta fuori? Non sapevo che le molte facessero un suono Ok mi metto di qua Ci penso io Ci penso io a questo Sto quasi per morire Sto quasi per morire Nita lasciami stare E mi ha presa Ovviamente mi ha presa Due orsi di Nita No 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 Ragazzi aiuto Ragazzi aiuto Godzilla mi aiuti Ma scusate Se io divento invisibile Gli orsi di Nita Possono lo stesso vedermi Non credo Tecnicamente no Aia 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 Perché tutti ce l'hanno con me Mi hai tirato una mini leggata Stiamo vincendo Stiamo vincendo Stiamo vincendo Quasi quasi distruggo un po' Anch'io i palazzi qua Dai Manca poco Manca poco Due Vinta Vinta Ok mi manca l'ultima partita E possiamo aprire La scatola delle uova Comunque ho capito solo adesso Che quando perdi Ti viene droppata la star drop Da aprire dopo E non l'uovo Ha senso Oh perché sto Godzilla Ce l'ha con me Vai dagli altri Non da me Ecco Quando me la vedo brutta Come in questo momento Dovrei proprio utilizzare il gadget Per scappare È perfetto per me Già che sono una scarsa Dai dai che è morto Dai che è morto Ottimo Sto sudando eh Ah e ormai è vinta Manca pochissimo No poverino L'abbiamo killato subito Appena uscito da qua Appena esponato Siamo persone orribili E scorrette Oh comunque sto facendo Un sacco Un sacco Un sacco di kill È quasi morto Vabbè me ne frego Degli altri Vado a distruggere i palazzi Che tanto la stiamo Per vincere Easy Easy Vediamo com'è andata Vedi ho fatto 10 kill E 0 morti Chi è questa ragazza Oh vai Apriamo un po' di uova Raro 100 monete Fermi lì Fermi lì Epico Una nuova mutazione Non l'ho mai usata Neanche questa però Vabbè un giorno Ci arriveremo Monete Oh finalmente Ci riprendiamo Dalla crisi Mitico Nuova skin Pellina questa Oh fammi sbloccare Anche di qua Dai tutto sommato Sono stata brava oggi Ho fatto un po' meno Schifo del solito Grazie anche ovviamente I vostri consigli Quindi mi raccomando Se avete altri consigli Da darmi Non esitate Scrivetemi qua sotto Che torno sempre A leggermeli Ragazzi direi Ci fermiamo qua Oggi abbiamo fatto Parecchi progressi Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto E mi raccomando Lasciate like Per il prossimo episodio Da Carli Da Cibi Da Cedarino E tutto E noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Adios